Giacomo Ricci quest'anno hai giocato, ho contato almeno in quattro posizioni diverse. Qual è quella che sei convinto ad aver espresso il meglio di te? Io mi sento terzino, sono venuto qui per fare terzino, poi il mister ha deciso di farmi fare più ruoli, l'ho accettato perché comunque devo essere a disposizione del mister, però penso terzino averlo svolto meglio anche se sono stato utilizzato poche volte in quel ruolo. Nonostante tu abbia dimostrato un certo spunto in grado anche di fare la differenza, saltare l'uomo in una posizione più avanzata, di esterno alto, non ti attira? No, mi piace saltare l'uomo e segnare, però non ci sono differenze, dove mi mette e cerco di fare il ruolo e svolgerlo al meglio. E come terzino, chi sono i tuoi modelli, i tuoi giocatori preferiti di riferimento, quelli a cui vorresti assomigliare? No, mi piace Marcello e il Real Madrid, però penso un po' a tutti, gli piacciono. Certo. Tutti sono i tuoi amici che ti chiamano. Ecco, partiamo proprio da qua, ieri stavamo parlando con Simonetti, di voi che comunque vivete qua a Collecchio, quindi siete un cioppo di giovani. Come state vivendo questa parte finale di campionato, con i vari discorsi sulle possibili riconferme, eccetera, eccetera? Ma ogni tanto ne parliamo così quando siamo a cena, però ancora non sappiamo niente, che comunque la società sta aspettando domenica che finisca il campionato, poi inizierà con le varie chiamate, con i curatori, e ci vorranno sapere. Ecco, facendo un salto all'ultima gara contro Bellaria, forse, ma vado a sensazione, è stata la prima volta che entrambi i tazzini hanno spinto senza magari mantenere un certo equilibrio. Normalmente si spingeva più sulla destra, la sinistra un po' meno, quindi vedo che me lo confermi. Era perché l'avversario era comunque sulla carta più debole, oppure perché adesso il Parma è scarico di mente, quindi non ci sono più certi problemi o certi preconcetti difensivi. Non ti nego che da quando abbiamo raggiunto l'obiettivo siamo più sciolti anche in campo. Cioè le giocate magari le giocate più difficili, magari la cerchiamo, magari prima invece facevamo quella più facile. Però parlando dei terzini domenica, sì, siamo andati tutte e due, magari io più il secondo tempo, perché già da qualche partita facciamo magari un tempo da una parte e poi il secondo dall'altra. Però niente, quando posso vado, quando spingo, perché comunque c'ho corsa e mi piace correre. Dal punto di vista invece, tornando a quello che è un po' il futuro, poi tu sei del Parma adesso. C'è un Livorno che potrebbe scendere in Lega Pro, ti è venuto il dubbio, tra virgolette. No, no, assolutamente no. Io sto bene qua, mi sono trovato bene subito dall'inizio, quando sono arrivato agosto e spero di continuare qua a Parma. Ecco, della San Maurese, per concludere, che è la prossima avversaria, l'ultima, prima dell'imbattibilità, cosa ti ricordi e soprattutto quali possono essere le difficoltà? Viene da due vittorie contro Alto Vicentino e Forlì, quindi insomma. Ma è una squadra ostica, visto dai due risultati che hanno fatto contro Alto Vicentino e Forlì. No, cercheremo di vincere, perché comunque vogliamo rimanere imbattuti e andiamo là per vincere sicuramente. Mi dai un paragone tra il girone che hai conosciuto l'anno scorso per il Padova e quello di quest'anno? Come spessore medio? Io avevo già detto in qualche intervista fa che questo girone è stato più difficile, perché comunque l'anno scorso eravamo solo due squadre che puntavamo a vincere il campionato, che era il Padova e l'Alto Vicentino. Quest'anno invece si è dimostrato che c'erano molte più squadre e il girone è stato sicuramente più difficile dell'anno scorso. E l'assaggio che hai avuto di Ponte d'Era, quindi di Lega Pro, che riflessioni ti fa fare, potendo poi paragonare alla realtà di Parma? Io non ti posso dire niente, perché comunque ho fatto solo due settimane e... Struttura, lico, organizzazione, campi... Comunque, niente, non c'entra proprio un'altra cosa. Qui è Serie A, l'ho sempre detto e... Niente, penso che qua ci sono i presupposti per il prossimo anno per vincere il campionato subito, perché comunque c'è tutta per vincere. Con un riciclato fino a sinistra. Quello dovrà decidere il delettore, il presidente e l'allenatore. Grazie. Le domande?